Nogli episodi precedenti di Revelations 2... Vamos! Che cazzo di giornata! Quella troia mi ha ficcato un ago! E appoggia di inescrivius! Claire! Sul tetto! Vedi? Siamo come sorelle. Occhio piccolo dolce greco! Questo è banale! Claire, dov'è la ragazzina? Moira cercava di raggiungere quella torre quando ero con lei. Barry, c'è qualcosa laggiù! Ti stavo aspettando, piccola. Aspetta. Beh, questo sì che è un buon che gioco. Io e Moira ci siamo separate qui. Il Signore Buono mi ha portato a via. Due uesco. Natalia! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti Ok, siamo fuori ora E adesso sulle tracce di Wesker Già Lo sai Non sei costretta a venire con me per forza Ma io resto Voglio sapere la verità almeno quanto te Grazie a tutti Tanto tempo fa Deve essere stato una sorta di miniera Grazie a tutti Verri, ricordo qualcosa Quella donna stava laggiù da qualche parte Ok, scendiamo giù e troviamo una via per passare Quella strega La pagherà per tutto quello che ha fatto a Moira Non lascerò quest'isola Se no... con lei La pagherà per la pagherà per la pagherà 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 Grazie. Dove diavolo siamo ora? C'è qualcosa più avanti. Attento! Grazie. 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 Possiamo salire solo col montacarichi. Grazie. Grazie. Sembra che il generatore sia stato rimosso. Dovremmo trovare un ricambio per farlo muovere. Grazie. 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 Cosa è stato? Grazie. 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 Magari possiamo usare questo generatore. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 No, no, no. Deve essere stato l'interruttore del nastro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie. Mostra! Grazie. 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 E adesso? Continuiamo così. Tra un po' avremo quella strega in pugno. Alla prossima. 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 Allora buonanotte, mia cara. Dormi bene. Tutto questo tempo perso. La mia vita è stata un preludio a questo. La mia vera nascita. È ora di incontrare la causa di tutto. Cos'è questo posto? Non importa. Troviamo la guardiana. Non importa. Oh. Non. 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 cambiato il flusso dell'acqua già ma dove non riconosco quel posto guarda questi video abbiamo visto la maggior parte di queste aree e lei ci ha sorvegliate per tutto il tempo a scoperto qualcosa non lo so non riesco a comprendere la guardiana scoperto No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Finalmente ci incontriamo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.